Ciao, io sono Stefano e oggi vedremo insieme la prima maglia del Borussia Dortmund per la stagione 22-23, cioè la prossima, nella versione FAN. La maglia Dortmund 2022-23 è prevalentemente Cyber Yellow. Il Cyber Yellow è lo stesso colore utilizzato da Puma per le precedenti maglie da casa del Borussia Dortmund. La caratteristica distintiva della maglia da casa sono le quattro strisce, che appaiono sul davanti della maglia e presentano anche un sottile motivo geometrico all'interno. Le strisce sono interrotte al centro, attorno alla casella del logo dello sponsor One&One. Secondo Puma, il look a righe della maglia di casa è ispirato alla stagione di Champions League 2012-2013, pietà che è stata disputata con una maglia da casa a righe. Realizzata con la tecnologia Dry Cell, assicura alte prestazioni per eliminare l'umidità dal corpo e mantenerti libero dal sudore durante l'esercizio. Bellissima! Devo dire che questa maglia è stata una fantastica sorpresa. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Molto bello, peraltro il motivo che c'è all'interno delle righe nere. La maglia è fatta, peraltro, benissimo. Incredibile, costi soltanto 15,58$. Sfido a trovare un prezzo più basso. La spedizione è stata veloce, è arrivata in 26 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg.